Le università mettono a disposizione le loro competenze, oltretutto noi le facciamo in maniera integrata con le altre università del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia e avendo a disposizione queste competenze si lavora insieme con un grande obiettivo che è quello dello sviluppo tecnologico del paese. Grazie